Il report è legato all'attività fatta dall'ufficio insieme al compianto avvocato Morra e quindi ci racconta quello che nel corso del 23 è stato fatto dall'ufficio e ci dice che ci sono state molte richieste di accesso all'ufficio del difensore civico perché questi potesse tutelare i diritti dei cittadini che avevano contrasti con la pubblica amministrazione dal denegato accesso agli atti piuttosto che all'intervento generale sulle materie e sulle questioni che riguardano il malfunzionamento della pubblica amministrazione ma su quel solco, cioè su quella strada tracciata noi abbiamo impiantato il nostro programma e progetto la nostra idea di difesa civica che deve essere sempre più aperta all'esterno verso i cittadini ma anche sempre più collaborativa con la pubblica amministrazione non siamo i censori di nessuno ma vogliamo essere invece quel anello di congiunzione tra le esigenze, i bisogni, le difficoltà che il cittadino a volte incontra nel gestire le proprie patiche amministrative e la pubblica amministrazione che non sempre è in sintonia con le esigenze del cittadino spesso per problemi legati anche al sottodimensionamento di molti comuni ma molto spesso per una postura che deve essere modernizzata e resa sempre più vicina ai cittadini ecco per questo ho voluto programmare insieme all'Università di Chieti al Dipartimento di Scienze Giuridiche e insieme all'Associazione dei Comuni una serie di incontri che faremo sul territorio coinvolgendo gli ordini degli avvocati e soprattutto coinvolgendo gli operatori dei comuni perché ci possa essere insieme ai cittadini una formazione su quello che è l'accesso ai documenti agli atti, l'accesso generalizzato ma anche per far conoscere la figura e le attività del difensore civico grazie! 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 grazie!